ragazzi ieri sera live incredibile di un livello non alto di più questo poi me lo state dicendo voi me lo state scrivendo voi un livello altissimo non lo vedi su youtube questo livello ma la cosa da non sottovalutare che è tutto gratis quindi iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina se ci volete dare una pacca sulla spalla volete dare una pacca sulla spalla di esonerati bravi iscrivetevi al canale gratis e campanellina leggo solo un messaggio poi parlo della partita ci sarà tra qualche ora che mi ha colpito perché dice il fatto che gli amministratori un messaggio di un utente il fatto che gli amministratori ogni anno aumentino i debiti è la riprova che sanno che arriverà una nuova proprietà questa volta finalmente finanziariamente adeguata ma era adeguata anche su unico ma non lo è più da quattro anni in grado di riequilibrare il tutto sconvolgente perché vedi che non te lo dicono né a pagamento ma soprattutto gratis non ne parliamo nemmeno perché questa gente che ti chiede soldi per leggere il giornale quindi di cosa vuoi ragionare non lo so dove i cinesi ma te di cosa vuoi ragionare sconvolgente la notizia di effenberg e ragazzi potete andare a controllare commercialisti prenditori gente che la che fa l'advisor andate a controllare sconvolgente la notizia di effenberg che nessuno aveva mai detto e non mi far alzare la voce ogni ricavo della Champions League è vincolato a favore degli obbligazionisti quelli che parlano di rifinanziamento gli va detto di posare il fiasco oppure fatevi spiegare di come potrebbe rifinanziare la voglio chiudere perché tra tre ore sono partite ci volete dare una pacca sulla spalla a non tutti piace vivere mettendo la polvere sotto il tappeto ragazzi ognuno vive a modo suo le storie d'amore il lavoro le amicizie a noi non piace vivere mettendo la polvere sotto il tappeto noi siamo persone e i problemi li affrontano questo non ci questo non vuol dire che noi siamo meglio di qualche di un altro ma noi siamo fatti a modo nostro e a noi piace affrontare la realtà perché la realtà non la racconta nessuno te l'ho spiegato prima anche i diritti tv vanno agli obbligazionisti ma di cosa vuoi ragionare vediamo alla partita con l'Atalanta occhio te l'ho detto è un'Atalanta molto più intelligente rispetto a tre anni fa gioca in maniera molto diversa te l'ho già detto non ti viene a mordere le caviglie mentre fa il giro palla giù in difesa aspetta gioca molto più di posizionamento attenzione all'Atalanta ma veniamo al nostro uomo piangerini che si prepara ad affrontare la sua ex squadra laddove ha fallito clamorosamente quindi lo sappiamo tutti che piangerini al dente avvelenato con noi ma non solo non è avvelenato con noi solo per la sua fede per la sua fede gobba perché sa che all'Inter ha fallito tra l'altro la sua squadra del cuore gli ha preferito Pirlo ma non l'ha mai scelto chissà come mai Gasperini preferirono Pirlo a te cioè fatti due domande puoi essere anche un allenatore bravo per l'amor di dio ma di là preferirono Pirlo a te quindi cosa rompi coglioni Gasperini lui starà preparando questa partita chiuso in uno sgabuzzino da una settimana facendosi portare il pranzo al sacco lui ci starà lavorando da 24 lui ci starà lavorando 24 ore al giorno da una settimana su questa partita ragazzi occhio e poi io Gasperini me lo ricordo anche per una cosa che voleva vendere i cardi per Vucinic ora con tutti i gasini ha fatto i cardi tutte le antipatie del caso questo voleva vendere i cardi per Vucinic e soprattutto se non vi ricordate ve lo ricordo io Gasperini prese Medel al posto di Casemiro perché l'Inter aveva in mano Casemiro e Piangerini disse che Casemiro per il suo gioco era troppo lento quindi io ti dico una cosa Gasperini vada come vada ma vai a cagare Gasperini ciao Inter